Padova, dopo il passaggio del sistema perturbato che ha provocato qualche precipitazione, anche qualche temporale, però tutto sommato pioggia in questo periodo anche preziosa. Dopo il passaggio, dicevamo, si è ristabilizzata subito un'area di alte pressioni, evidente sulla carta del tempo, che interessa un po' tutte le nostre zone. Alta pressione che garantisce tempo stabile, del tipo autunnale, ma abbastanza stabile. Quindi più in dettaglio prevediamo su Padova e su tutto il Padovano, cielo in prevalenza poco nuvoloso per sabato, poco nuvoloso per domenica, o qualche nube che però lascia più velocemente spazio ai rassegnamenti, nubi che potranno essere temporaneamente più esistenti nella giornata di domenica. Il resto della settimana, con queste caratteristiche, non è escluso poi localmente sui rilievi qualche breve precipitazione. È un peggioramento, diciamo, più significativo intorno a fine settimana, ma anche questo sarà molto veloce. Comunque confermeremo queste previsioni. I venti saranno di debole provenienza variabile, debole intensità. Le temperature sempre a di sopra della norma, le minime dai 17-19 gradi. Le massime, e anche questa al di sopra della norma, cioè non toccheremo i 30 gradi, però 29 sì per domenica. Poi caleranno leggermente, comunque una media tra i 27 e i 29 gradi. Anche la prossima settimana si abbasseranno un po', ma saranno ben al di sopra della media. L'altaricatica è previsto da poco mosso, a quasi calmo. È tutto.